Matteo Salvini, meno immigrazione più lavoro a Milano? Ci sono 4 milioni di disoccupati italiani, prima vengono loro, quindi prima di far entrare un solo immigrato in più si ridà lavoro alla nostra gente, anche perché l'immigrazione troppo spesso è legata alla criminalità e alla delinquenza, ci sono dei costi insostenibili. Solo a Milano e provincia 100 milioni di euro per le cure sanitarie, gratuite ai clandestini, quindi non penso sia un momento in cui gli italiani possano, e gli immigrati regolari e per bene, possono accollarsi queste spese, quindi fra sabato e domenica oltre 50 fiaccolate in tutto il nord, alla Lombardia, alla Liguria, al Veneto, al Piemonte, per dire precedenza agli italiani per i posti di lavoro e regolamentiamo l'immigrazione come hanno fatto gli svizzeri. Sempre più sfratti a Milano un problema gravissimo dovuto alla crisi e alla mancanza di lavoro, cosa ne pensa la Lega? Non ci sono le case popolari, non ci sono alloggi, come risolve questo problema? Riservando il poco che c'è, a chi risiede qua da più tempo e paga le tasse qua da più tempo, quindi non solo in Lombardia ma in Piemonte e in Veneto, la proposta della Lega è secca, tutti i contributi pubblici e le case popolari vanno solo a chi risiede qua da almeno 15 anni, perché quelle case se le sono pagate, meritate e sudate. Allora, questo innanzitutto è un numero speciale del quotidiano a Padania che è distribuito in tutto il nord gratuitamente in 100.000 copie, immigrati costo insostenibile e documenta numero per numero, percentuale per percentuale, i posti di lavoro persi dagli italiani e tutte le prestazioni a favore degli immigrati, dal welfare alla sanità alle case ai reati commessi, e quindi i numeri dimostrano che l'immigrazione è un costo che non ci possiamo più permettere. Da qua, fiaccolate, non so se avete l'elenco, se no ve lo giro via mail se vi può interessare, da Brescia, Reggio Emilia, Pordenone, Albenga, Bergamo, Milano, Saluzzo, Novara, Prato, Trento, Belluno, Mestre, eccetera, eccetera, col tema che è questo, stop immigrazione significa più lavoro per i cittadini italiani, lo capisce anche un palo della luce, io sarò presente alla fiaccolata a Milano in una delle zone una volta più caratteristiche, adesso più problematiche che è il Viale Padova, quindi mi risulta che qualche centro sociale del posto non gradisca la presenza della Lega e ciò mi riempie di gioia e mi dice che siamo sulla strada giusta, il tema che porteremo anche sul tavolo di Renzi, qualora dalla guerra all'ultimo sangue sopravvivesse lui invece di quell'altro, è il lavoro innanzitutto e quindi tutelare al massimo il lavoro, cosa che il governo non sta facendo, venendo qua, ho parlato con il delegato della FIOM e la Lega riesce a essere interlocutrice anche di realtà lontane da noi, ma nel nome della concretezza il caso della Franco Tosi di Legnano, 400 posti di lavoro a rischio con una soluzione imprenditoriale seria portata di mano, ignorata dal ministro, spero ex ministro, Zanonato è il caso più eclatante, quindi la priorità è salvare il lavoro e quindi bloccare l'immigrazione che fa concorrenza a basso costo ai disoccupati italiani. Questo è il senso e qua ci sono il segretario provinciale di Milano, il segretario provinciale della provincia Est di Milano, il segretario provinciale della provincia Ovest di Milano dove verremo a Legnano per solidarietà ai lavoratori della Franco Tosi, già settimana prossima, esatto, l'assessore alla sicurezza e consigliere Lepore, visto che è una partita che ci giochiamo tutti insieme, quindi la priorità per noi è il lavoro e le gare, l'immigrazione incontrollata al fatto che gli italiani il lavoro lo trovano sempre più difficilmente, l'hanno fatto gli svizzeri, non sono più geniali di noi, quindi potremmo farlo anche noi. In maniera disordinata danneggeremo macchine, banche, incendieremo negozi e lasceremo scritte ovunque, giusto per fare un corteo un po' diverso dal solito. Scritte sia all'euro, firmate PD, così almeno faremo qualcosa di diverso dal solito. Avete avuto contatti con quelle forze europee in cui siete? Assolutamente sì, i contatti sono settimanali, faremo iniziative comuni prima del voto europeo, sia in Francia che in Austria che in Olanda, nel nome dell'altra Europa possibile, e poi domenica comincia il Basta Eurotour, questa è l'anteprima della copertina del libro che distribuiamo gratuitamente da settimana prossima, per una cosa alla volta, oggi parliamo di lavoro, domani parliamo di euro. Però si stiamo preparando iniziative comuni, noi andremo là, loro verranno qua, quindi ci sarà plasticamente l'idea del fatto che siamo parte di un gruppo forte e presente, che altrove è primo partito, in Italia purtroppo no, però vabbè. Nel caso si uscisse dall'euro, non abbandonare l'euro in cui ormai seguire delle monede parallele per macro regionale? La priorità è rendersi conto che l'euro è la morte dell'economia italiana, francese, spagnola, cioè l'euro ha fatto la gioia dei tedeschi, punto. Quindi su questo siamo soli, perché anche Grillo dice non ho mai detto di uscire dall'euro, noi invece diciamo chiaramente, palesemente, che fuori dall'euro riparte il lavoro. Sul cosa c'è dopo ci sono due o tre dibattiti economici aperti, l'euro a due velocità, tre o quattro monete differenziate per aree omogenee, il ritorno alla lira e alle monete nazionali, stiamo esaminando con alcuni esperti quale sarebbe la più conveniente, l'importante è mollare questo euro, poi quello che c'è dopo... Prima bisogna spegnere l'incendio, l'incendio si chiama euro, poi si ricostruisce la casa, vedremo a breve come. Il Signore ha detto che comunque non è un no a priori nei confronti di un ipotetico un incarico a Renzi, cioè questo significa che la Lega si potrebbe astenere come... Questo significa che mai nella vita entreremo in un governo evidentemente di sinistra, chiaro e preciso. Significa che però ci pagano per risolvere i problemi e dare delle risposte non per dire dei no a priori come fa qualcun altro e quindi vuol dire che il minuto dopo che Renzi ricevesse l'incarico noi andremo, chiederemo un incontro per parlargli di esenzione fiscale per gli alluvionati, di abolizione della riforma Fornero, di ribaltare i tavoli a Bruxelles e riprenderci la sovranità e se Renzi su alcuni di questi temi ci stupisse e ci venisse incontro non è detto che gli faremo battaglia 24 ore su 24 in Parlamento. Avevamo dato una benevola estensione al governo Letta, ahimè con fiducia mal riposta evidentemente dopo un anno di vuoto, però qualcuno dice no a priori, noi non siamo pagati per dire no a priori. Certo il meglio in una democrazia normale sarebbe votare domani mattina, cioè in una democrazia normale il terzo Presidente del Consiglio non eletto da nessuno funziona a Cuba o in Corea del Nord dove si passano fra compagni e la staffetta, però visto che non siamo in una democrazia normale quantomeno vediamo di portare a casa qualche risultato per la nostra gente. E che idea si è fatto dello spettacolo che sta avanti? Squallido, squallido. A parte invertite se ci fosse simile teatrino nel nome della poltrona con la Lega o col centrodestra protagonista avremmo girotondi ovunque, indignati ovunque, avremmo le Lelle Costa, i Fabio Fazio, i vecchioni, gli indignati di professione, gli studenti e i No Global a fare casino ovunque. Qua c'è il PD che tiene in ostaggio il Paese e sembra quasi normale, a me sembra che stiano vivendo la fine del Sacro Romano Impero e gli provererà tutto in testa, però... Presidente Napolitano, secondo te, è rimasto all'età del suo potere? Secondo me il Presidente Napolitano fra poco non sarà più Presidente, quindi parleremo di altro. Noi riteniamo di avere salvato il Piemonte dal sicuro collasso, il Piemonte era in bancarotta, la gestione di sinistra del Piemonte aveva portato a livelli della regione Lazio o a livelli di regione Campania, cioè il Piemonte era il profondo sud vicino alle Alpi. Abbiamo salvato il Piemonte e i piemontesi dal disastro economico, ne siamo orgogliosi, io ho chiesto a Cota di andare avanti a fare quello che stava facendo, lui è ovviamente giustamente fra l'incazzato, l'imbufalito e l'amareggiato, le primarie secondo me sono sempre una sana dose di coinvolgimento, di partecipazione e di democrazia, quindi il candidato lo sceglieranno i piemontesi dal mio punto di vista, io spero che ci sarà anche un'opzione leghista, non dico, non sta a me fare nomi e cognomi, però offriremo alla coalizione i piemontesi, anche perché la sinistra ha deciso in salotto, in centro a Torino, anzi in banca a Torino chi è il suo candidato. E quindi fortunatamente il Piemonte non sono solo le banche torinesi e quindi spero che il candidato venga fuori dalla provincia e che la provincia vincerà 3 a 1. Non c'è niente di automatico nella vita, io glielo ho chiesto, secondo me visto il vergognoso sovvertimento del voto popolare io glielo ho chiesto, poi essendo essere umano anche lui è stufo di essere massacrato dopo aver salvato una regione, però la Lega ci sarà.